eduardo finalmente riesce a incontrare la sorella guendalina e gli dà i regali e lui ci scherza come al solito su ce l'abbiamo fatta ragazzi eccoci ci siamo la pergamena è praticamente il signore degli anelli con calma con calma godino ma è rovinato mi chiamano più io ho anche allestito a te o comunque grazie ragazzi non so cosa ci sia detto spero non 55 pollici 8 allora questo è il libro delle risposte ok poi faccio una domanda e mi dà la risposta va bene diego per esempio ma io stare insieme sempre a lei o se può pure puntare a qualcosa di meglio eduardo è un giocherellone infatti non legge neanche diciamo così il bigliettino perché veramente è il signore degli anelli grazie